Ciao ciao, coricina mia, cosa posso aiutarti da oggi? Ah, ok, vuoi un tatuaggio nuovo? Capisco, l'hai fatto già prima? Ah, hai già uno? Ah, ok, e non te lo sei fatto qua? E va bene, lasciamo stare Ah, non conoscevi ancora questo negozio? Va bene, diciamo che ti credo Comunque, e hai più o meno in te a cosa fare? Hai già visto il nostro catalogo? Se sei interessato alla pagina 27 Capisco qual di questo Questo sole Ottima scelta Tanto a me piace tanto questo sole Un po' maya Un po' così Hai deciso già dove te lo puoi fare? Sul braccio Qua Perfetto Quindi io direi di farlo un pochino più piccolo Di come lo vedi nell'immagine Così non esce dal bordo del braccio Altrimenti è un po' bruttino Non ti pare? Certo Allora Lo facciamo così Leggeramente più piccolo Benissimo Allora Anzitutto la prima cosa da fare è Andiamo a pulire il braccio Sì, questo è Una lozione desinfettante E anche idratante Così non ti risicca la pelle Comunque Desinfetta tutto Così evitiamo Qualunque infezione Qualunque cosa Può andare distorta Quindi Anzitutto La Igiene La pulizia 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 Ok, benissimo Dammi il braccio Puliamo per bene la superficie Molto, molto bene, ok Allora procediamo Prima mettiamo tipo il tattoo Sai come funziona, no? Ti metto un tattoo E poi io vado sopra A fare il tatuaggio Certo, così semplice Che venga storto o brutto Perché immagino non vuoi un tatuaggio storto Almeno immagino Ok Quindi mettiamo il tattoo In molte Fammi vedere il braccio Perfetto Si è attaccato Benissimo Ok, allora iniziamo Andiamo a prendere le cose di cui abbiamo bisogno Sì, è molto importante che il cliente veda che tutto è Esatto, tutto si butta Tutto è nuovo E ovviamente non si deve utilizzare mai una cosa Un ago usato per un cliente anteriore Quindi è importante che il cliente veda che tutto è sistemato E quindi per lei ce lo devo far vedere E quindi E quindi E quindi E quindi Prima di prendere il lago Nonostante ho anche desinfettato le manine E uso i guanti Nonostante ho anche desinfettato le manine Adesso si andiamo a prendere il lago Adesso si andiamo a prendere il lago Nonostante ho anche desinfettato le manine 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 Molto bene Molto bene Allora Nonostante ho anche desinfettato le mani Nonostante ho anche desinfettato le manine Nonostante ho anche desinfettato le manine Nonostante ho anche desinfettato le mani Nonostante ho anche desinfettato le mani Dopo il lago Dopo il lago è storto Giusto? Quindi Ok Stiamo quasi per finire Meno male È piccolissimo Quindi Sì pronto? Continuo? Va bene Perfetto Va bene È normale sentire un pochino di dolore Poi ce l'hai fatto prima Va Continuo Ok Ok Manca solo quest'altra puntita Dopo la buracca Del sole E abbiamo finito Ok Perfetto Ok Spendiamo qua Torniamo i cavi 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 Torniamo i cavi